I piccioli! I piccioli! Vanno tirati fuori i piccioli! Zang! Dove cazzo sei? Zang! Persici i cardi! Zang! Zang! Dove sei? Bisogna comprare i numeri 1 per vincere le partite! Non per eserci i cardi, politano! Zang! Dove sei? Per favore, serietà! Spalletti, allegri, spalletti, allegri, gattuso! Zang! Dove cazzo sei? Vieni qua! Devi spendere i piccioli! Con il riso non vinciamo un cazzo! Zang! Dove sei? Per favore, serietà quando parlate di calcio! È colpa di Spalletti? È colpa di Allegri? È colpa del Frosinone? No! Ci vogliono quelli buoni per vincere le partite! Il mio amico Guy Laflor, me l'ha sempre detto! Quando lui era il numero 1 dell'hockey su ghiaccio nel Nord America Lui prendeva la mazza e gli cominciava a dare legnate alle rondelle E così è cristiano! Quando la partita è in momenti caldi Non c'è allenatore! Ci sono i giocatori! Zang! Dove sei? Noi siamo qua che non sappiamo chi far giocare! Abbiamo gente domani, giovedì, non lo so con che squadra possiamo scendere in campo! Queste hanno due squadre da far giocare! Zang! Dove cazzo sei? Non puoi restare in Cina e fare presidente di una delle squadre più belle del mondo! Zang! Dove sei? Devi tornare qui! Figa! Stasera l'ha vinta lui! E quelli che dicono Allegri? Conte! Eh? Conte con chi giocava? Con Vucinivi! Come cazzo poteva vincere? E Zazza! Come poteva vincere la Coppa dei Campioni? Zang! Dove sei? Ciao!